e qua le rifacciamo ogni volta che veniamo qua ma non veniamo più qua cazzo va ma vai a me ma tutte le volte tutte le volte tutte le volte allora e c'è quello lì o stacchiamo quello tiriamo fuori quello lì la sfigliamo se va indietro la maglia di giunzione cioè questo qua se va indietro questo resta libero viene giù potrebbe anche avere il culo che riusciamo a ributtarlo indietro quindi per mandarla indietro via la maglia cercando di non per parte c'era una ma il gatto inguantato non ha mai preso i topi cazzo va già tutta settimana lavora sulle cose cazzo anche la domenica figaro a sabato devo dirgli basta perché no in giù pietro sì in giù in giù volevi che era facile e logico che era in giù mentre dentro anche gli occhiali nello zaccone e vai e vai non che ho romperto faccio come il drone gesto contro il che moto tocca la mia terapia